Un omicidio, due indagati, padre e figlio, ma bisogna stabilire i ruoli. Chi tra il 43enne filippino Renato Peralta e il figlio 16enne ha coltellato Michael Lipon, 50 anni, ucciso domenica a Roma nei pressi della stazione metro di Valle Aurelia. La dinamica potrebbe anche essere chiarita dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza installata in zona tra via Ubaldo degli Ubaldi e Anastasio II che avrebbe ripreso l'aggressione. A padre e figlio la procura di Roma contesta il concorso in omicidio aggravato da futili motivi. Ambiguo anche il modo di ammettere le proprie responsabilità da parte di Peralta che ha annunciato via social di andare a costituirsi chiedendo ai parenti di occuparsi del figlio, ma la posizione del ragazzo è all'attenzione dei magistrati della procura dei minori. Forse, sentendosi braccati, i due si sono diretti nella stazione dei carabinieri di Valle Aurelia a pochi passi dall'omicidio. I militari dell'arma hanno contattato i colleghi della squadra mobile della polizia cui la procura ha delegato le indagini per il trasferimento dei due negli uffici della Questura in via San Vitale. A Renato Peralta è stato notificato il decreto di fermo emesso dal PM Silvia Sereni, titolare del fascicolo.